Oggi abbiamo accolto probabilmente l'invito di Enel di collaborare insieme in questo percorso formativo quindi parleremo delle interferenze che ci sono durante le operazioni di cantiere sia con le linee esterne della illuminazione, quindi degli impianti elettrici che sono sottoposti a vincolo dell'Enel sia anche un passaggio veloce per quanto riguarda le interferenze sui cantieri quindi il problema elettrico visto dalle imprese edili durante le ristrutturazioni. È un momento di confronto, è un momento che ci porta a dialogare anche con il gruppo Enel che è un'azienda significativa del nostro territorio nazionale quindi siamo ben lieti di averli accolti qui in Confindustria con Ance e con Formedil e siamo lieti di aver dato questo contributo alle nostre aziende perché è una problematica che si verifica frequentemente purtroppo sui nostri cantieri e quindi è giusto prestare la massima attenzione e insieme anche a chi gestisce queste reti trovare insieme le soluzioni ed evitare che ci possano essere degli incidenti seri e quindi la prevenzione, la formazione, l'informazione diventa prioritaria in questo campo. Noi come distribuzione abbiamo contattato qui Confindustria Taranto l'associazione nazionale costruttori edili, conforme edil anche perché ancora troppo spesso registriamo morti per elettrocuzione nelle attività lavorative di cantiere quindi riteniamo che favorire un aumento della sensibilità rispetto a questi rischi dell'elettricità che come sappiamo non si riesce a vedere e quindi a misurare il pericolo e quindi parlandone invece riusciamo a favorire un miglioramento di questa cultura della sicurezza e quindi prevenire questi rischi. Bisogna rispettare le distanze di sicurezza previste dalle norme e non pensare che ad esempio conduttori così sottili possano non essere pericolosi sono molto pericolosi tanto da portare a lesioni molto gravi e spesso anche alla morte. Il seminario di stasera verte sui rischi elettrici aerei e in sottoservizio questo è stato voluto dall'Enel e noi siamo grati all'Enel Distribuzione perché ha coinvolto Confindustria e Lancia Taranto perché evidentemente ci sono dei problemi ancora da risolvere in merito alla sicurezza nella movimentazione aerea e nei lavori nei sottoservizi. Oggi vogliamo l'occasione per poter discutere con l'Enel Distribuzione quindi con l'ingegnere incaricato di appunto svolgere questa funzione in maniera tematica insieme ad altri esperti del Formedil CPT. Ringrazio anche Confindustria e la stessa Ance che ha organizzato questo seminario.